Doppia difesa BOOM Lascia andare un 1-0 in favore di Spoto Beccaccioli a cambio di campo Doppio maschile Si alza Per questa finale tricolore al CRB di Matteo Baldini E l'indice di Nicolo Gaspari che significa 2, anzi 3 opportunità di finale superando il numero 2 del SIG Sventi 30-15 Che bravo qui Boscolo Con grande facilità Spoto riceve una palla decisamente complicata Doppia difesa di te Beccaccioli Spoto 0-40 Oprattutto se partono immediatamente forti in avvio 0-40 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 Splendida palla di Rovet Cerca un Va pizzicato Roso che significa chiusura del set Sei giochi a due Nel primo parziale della finale Campionati italiani indoor 2023 In favore Contro due atleti del calibro di Spotovecaccioli Chiusura di Gasparri La palla propria È magnifico cross stretto Non riesce a chiudere il punto Boscolo Per tenervi ball match Errore con il rovescio Un po' di Gran bello smash vince Si difende alla grande Pippo Bosculo Poi prova a spingere con il diritto Tentativo estremo E chiude Doriano E 0-30 Palla a pizzicare Chiude con lo smash E 30-0 Tutta questa velocità di palla Senza sbagliare nulla Bravissimo C'era una vera e propria battaglia In semifinale contro Edoardo Ponti E Marco Il Puma Garavini La dea bendata Non è da nei due Quello che è il nastro E che si fa di più 5 giochi a 2 E opportunità di chiudere il match Per la testa di serie numero 1 Bravissimo Pippo Boscolo Timing In questo caso E 30 pari Prima E basta la prima 6-2-6-2 Il punteggio In favore Di Doriano Beccaccioli E Mattia Spoto Che piegano la resistenza Di Niccolo Gaspari E Filippo Boscolo Sono ancora una volta Loro i più forti D'Italia Prestazione Grazie